Ciao amici YouTube, benvenuti, bentornati a questo appuntamento. Quest'oggi faremo un interattivo. Mi avete chiesto come mai non faccio più interattivi. Allora iniziamo subito con questo interattivo e oggi voglio parlarvi della vostra storia d'amore. Impareremo attraverso le nostre carte, chiederemo alle nostre carte come andrà questa vostra storia d'amore. Quindi tutto su di voi, tutto su questa relazione particolare che state vivendo. E' un interattivo che può riguardare tutte le persone che hanno già qualcuno, quindi persone che magari stanno vivendo un momento particolare nella propria relazione, persone che in qualche modo stanno vivendo una relazione importante, stanno frequentando qualcuno, stanno conoscendo qualcuno o addirittura hanno conosciuto qualcuno e vogliono sapere di più di questa persona. Quindi parleremo un po' di tutto. Quindi tutto su voi due, la persona che state pensando in questo momento. L'unica cosa che vi chiedo, anzi le due cose che vi chiedo, è concentrarvi sulla persona che volete. Quindi potete fare magari anche due interattivi se avete in mente due persone. E poi possiamo, vi chiedo innanzitutto poi, di fare una selezione. Oggi abbiamo una drusa di quarzo fumé e poi abbiamo invece qui una pietra di acqua marina oppure i mazzi. Insomma, oggi ho avuto selezionare un po' di mazzi e ho aperto l'armadio e toff. Farmi usare un po' di questi mazzi che non uso da un po' di tempo. Altra cosa che vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate il vostro like, il vostro commento, cliccate sulla campanina nel momento in cui vi iscrivete. mi raccomando, cliccate su tutte le notifiche in modo poi da poter ricevere le notifiche nei prossimi video. Quindi respiriamo, fate la vostra selezione e iniziamo subito con la numero 1, quindi la nostra drusa di quarzo fumé. Allora, prima di prendere ovviamente la nostra drusa andiamo qui prima a vedere un po' le energie di questo vostro rapporto. va bene? La prima cosa, voglio prendere una carta degli angeli per capire la vostra energia con questa persona. prendiamo questa carta e poi prendiamo delle carte dei nostri oracoli, dei miei oracoli, scusa, dei miei oracoli di Asclo. Quindi ricordo che questo sarà un interattivo generale per questa informazione. In basso avete la mia email, la mia pagina web per poter prenotare il vostro consulto privato. Perfetto. Qui abbiamo le nostre carte. Iniziamo subito a vedere l'energia tra voi due con le carte degli angeli. Dipendenza reciproca. questo sicuramente mi fa pensare a una persona che comunque io parlerò al maschi, al femminile, quindi comunque se siete uomini cercate di metterla al femminile. È un lui che vi sta pensando, che non riesce a staccarsi da voi, che probabilmente ha una dipendenza così come voi l'avete in questo preciso momento. La dipendenza è proprio un sentimento quasi di sofferenza che avete. Ve lo pensate quasi morbosamente, ossessivamente a questa persona. Ma la stessa cosa vale per lui. Quindi se vi state chiedendo se vi pensa, se non vi pensa, beh, questa persona indubbiamente vi sta pensando. È una persona che comunque vuole in qualche modo vivere un rapporto, insomma, con voi, vuole in qualche modo cercare, insomma, di recuperare forse anche questo tipo di rapporto che avete avuto in questo preciso momento. Qualcuno che non riesce a non pensarvi in questo preciso istante, non riesce a lasciarvi andare, insomma, li siete rientrate un po' nel cuore, quindi comunque è una persona che in qualche modo non riesce a staccarsi da queste emozioni così forti, che sono sicuramente delle emozioni che in qualche modo dipendono molto da voi e c'è una sensazione proprio che non si riesce a liberarsi da questa persona, da questa idea. Vi svegliate la notte, lo pensate, siete in qualche modo condizionati anche da questa persona, dal vostro modo di essere e questo potrebbe in qualche modo causarvi delle volte anche dei momenti di indecisione, se vale proprio la pena stare così male per questa persona. Ma la cosa interessante da queste carte è che comunque anche l'altra persona indubbiamente vi sta pensando e ha una sensazione forte nei vostri confronti, una voglia di vivervi in qualche modo, c'è una reciproca dipendenza tra di voi e questo è molto evidente. Abbiamo la carta dell'anima gemella, quindi qui abbiamo sicuramente una persona importante, qualcuno che avete sconosciuto, che state frequentando, che avete nella vostra vita, che sentite che c'è qualcosa di forte nella propria vita, c'è forse troppo in questa persona, che sentite che non può non essere qualcuno di così banale, ecco, non è una conoscenza banale quella che state avendo, è comunque una persona che sentite che fa parte della vostra vita, una persona che in qualche modo vi sta condizionando tanto la vita, ma che non riuscite a lasciarla andare, che non riuscite a dimenticarlo, perché voi l'avete conosciuta quell'anima gemella o avete quell'anima gemella con voi e quindi mi raccomando vivetevi questo rapporto, questa relazione nei migliori di modi. Mi è voluto amore perché ci sono parole di amore a breve, se state aspettando un messaggio da questa persona, se in qualche modo state attendendo anche forse un passo in più da parte di questa persona lo avrete, lo avrete perché avrete delle parole importanti, verranno dette delle parole importanti, come andrà questa relazione sarà una relazione importante, adesso prendiamo anche la terza carta per concludere diciamo un po' questo vostro cosa, possessione, è quello che secondo me sento in questa relazione, sento che effettivamente dovete viverla in maniera molto rilassata, perché c'è tanta proprio la dipendenza, la possessione, sono due carte molto simili, sono due carte dove comunque in qualche modo non si vive bene questo tipo di rapporto, perché forse qualcuno durante questo vostro rapporto sta facendo uscire una parte forse di voi un po' così ossessiva, una parte magari non bella al 100%, quindi in qualche modo credo che sia fondamentale in questo preciso momento far comunque notare che voi siete comunque delle persone che volete vivervi questa relazione, volete in qualche modo approfondire questo tipo di relazione, ma c'è bisogno in qualche modo di essere più rilassate, più libere, fuori da qualche tipo di connessionamento. a breve come vi ho già detto riceverete un messaggio molto importante soprattutto se una persona che non c'è più quindi qualcuno che vuole ricollegarsi a voi riconnettersi a voi perché non riesce in qualche modo a non pensarvi a non fare a stare senza di voi questo credo che sia veramente qualcosa di importante nella vostra vita perché in qualche modo la vostra storia d'amore sta prendendo una strada molto importante che è quella del volersi ricollegare rivivere quando ci sono delle dipendenze però mi rendo conto che è sempre un qualcosa di molto difficile in questo momento quindi mi raccomando cerchiamo anche voi cercate magari di non essere troppo impulsive forse ci sono degli atteggiamenti anche da parte di questa persona che devono essere voi da parte di vostri atteggiamenti nei confronti di questa persona che devono comunque essere rivalutati attentamente perché è possibile che proprio questo rapporto possa essere un po' contaminato da questa possessività da questa ossessione che abbiamo rivisto proprio qua bene andiamo a vedere adesso con i nostri tarocchi alla base già sentiamo che c'è un'energia molto forte vediamo tutti voi che avete selezionato proprio questa drusa di quarzo fumè vediamo un poco come sarà questa vostra storia cosa accadrà nella vostra storia come la state vivendo vediamo abbiamo la carta della forza questo è un po' quello che abbiamo visto precedentemente no è un po' questa possessione che si ha no una carta molto importante ma una carta che richiede tanto autocontrollo che richiede anche un controllo di se stessi in questo tipo di rapporto e questo sarà molto importante abbiamo il 9 di coppe vedete che non credo che questa persona sa che una come voi non sarà facile ritrovarla il 7 di bastoni il 10 di denari il 5 di bastoni come il 7 di bastoni si è girata la carta del papa e abbiamo il fante di denari carta nascosta 4 di coppe c'è qualcosa effettivamente nell'area che mi fa pensare a una sorta di nervosismo in questo tipo di rapporto e non per questo c'è questa possessione questa dipendenza reciproca c'è qualcosa che in queste carte mi fa dubitare anche dell'essere rilassati spesso io mi rendo conto che l'amore viene visto un po' anche come antagonista come sentimenti un po' contrastanti sentimenti che in qualche modo non sono molto chiari sentimenti che spesso portano anche delle ansie e delle paure il ritorno di questa persona potrebbe portarvi dei sentimenti contrastanti un po' di ansie di paure un po' perché non si ha più voglia di vivere quel rapporto lì o quel rapporto malato o quel rapporto tossico che avete vissuto oppure si ha paura di perdere questa persona e quindi delle volte si trattengono o non si limitano non si dicono magari determinate cose quando invece bisognerebbe poi in qualche modo essere anche un po' più liberi un po' più spontanei nel rivivere questo tipo di rapporto abbiamo il fatto che qualcuno di voi si sta trattenendo nel dire le cose qualcuno non dice alcune cose a questo uomo perché o anche lui questo uomo non vi dice alcune cose perché si ha paura che si può esplodere in un litigio in alcune ansie quando poi in realtà alla base e vedo nelle carte proprio nella vostra base c'è proprio tutto quello che ci deve essere per un rapporto c'è il desiderio c'è la voglia c'è anche proprio queste carte di denaro che sono carte di grande stabilità mi fanno pensare che effettivamente non bisogna andare dietro non so a delle apparenze non bisogna andare magari dietro a delle situazioni incerte perché comunque abbiamo qui già delle grandi opportunità per poter vivere per poter in qualche modo relazionarsi ad alcune persone tra l'altro abbiamo un fante di denaro una persona che ha voglia di riconquistarvi ha voglia comunque di riprovarci con voi vuole essere onesto questa persona vuole comunque regalarvi delle emozioni nuove ma senza ansie senza impeto senza sfuriate che molto spesso non sono altro che incertezze che si vivono nelle relazioni si ha paura di perdere una persona allora si adottano dei meccanismi di autodifesa che possono essere poi quelli delle delle paure del litigio del gridare dell'ansia ecco perché c'è bisogno di ritrovare proprio quell'ambiente che ritroverete con questo nome di denaro perché come vi dicevo prima questa persona non riesce a fare meno di voi sa perfettamente che una persona che non troverà una come voi lo vedo anche dal Papa l'unico arcano maggiore che mi fa pensare in realtà c'è anche la forza quindi un arcano maggiore che mi fa pensare a questa grande stabilità che vuole con voi che vuole ricostruire che vuoi il Papa è sempre una carta di grande pace no? una persona che vuole riconnettersi con voi tra l'altro con voi il Papa tra l'altro ha un livello un po' più alto perché parla di tradizioni parla un po' anche di principi sani quindi una persona che vicino a voi indubbiamente ha vissuto delle bellissime emozioni e che comunque non vuole riperderle nuovamente la vostra sarà una storia importante limitatevi però alla possessività all'amore all'agitazione alle sfuriate che possono contaminare proprio questa meravigliosa storia che state vivendo che state per rivivere o che rinascerà nuovamente nei vostri cuori va bene? allora vediamo un attimo una carta dove l'ho messa? eccole qua scusate del nostro maestro Osho ovviamente voi sapete che io senza il consiglio del maestro Osho non vi lascio mai quindi andiamo a vedere una carta del maestro Osho che è sempre un consiglio che vi vuole dare nelle vostre nelle vostre carte risvegliarsi qualcosa che rinasce una sensazione di voler anche rivivere questa vostra vita rimettervi nuovamente in gioco rivalutare probabilmente alcune cose intorno a voi della vostra vita di quello che state vivendo perché c'è proprio la voglia il desiderio in qualche modo di sentirsi consapevoli di quello che si sta vivendo se avete questa ombra si sta aprendo grazie alla consapevolezza che questo rapporto sta per diventare qualcosa di più allora apritevi anche voi liberatevi da queste ombre da queste ombre che spesso rappresentano le paure le incertezze il passato e liberatevi verso una nuova realtà questa immagine del Buddha nel fuoco è meravigliosa perché rappresenta proprio questa sensazione di libertà che avrete nuovamente in questo tipo di rapporto va bene? allora vivetevi questo rapporto nei migliori dei modi ragazzi perché abbiamo tutte le carte a vostra fuori però l'unica cosa limitata è l'ira la possessività il rancore l'ansia le preoccupazioni non c'è bisogno di preoccuparsi va bene? allora grazie come al solito lasciate il vostro like il vostro commento noi ci sentiremo nei prossimi video andiamo a vedere la numero 2 allora amici che avete selezionato invece la numero 2 questa è una pietra di ametista ma prima di iniziare con i nostri tarocchi andiamo a prendere un po' di carte va bene? allora andiamo a capire un po' come sarà questo vostro come andrà la vostra storia d'amore ecco come andrà la vostra storia d'amore tutto su di voi su questo vostro rapporto prendiamo prima degli oracoli per vedere le energie di questo vostro rapporto prendiamo questa carta e prendiamo tre carte dei miei oracoli che ho creato per voi in questi nostri video qualcuno me le ha chiesto e non li vendo non li ho messi in vendita perché gli oracoli che avevo messo precedentemente purtroppo avevano problemi con le spedizioni eccetera eccetera e quindi alla fine ho detto siccome non è sotto il mio controllo la pagina web dove vengono prodotti ho deciso di non farlo allora prendiamo tre carte la prima carta voglio questa voi mi raccomando pensate bene a questo lui io ovviamente parlerò al femminile dico ovviamente perché siete sempre molti di più se volete un consulto in basso avete la mia mail e la mia pagina web come al solito questa è la mia seconda carta questa è la terza carta allora iniziamo a vedere subito con le carte con le carte degli angeli attrazione attrae amore romantico godendo appieno di questo momento forte questa carta se state pensando a una persona che magari non c'è più questa persona vi vuole è attratto da voi se qualcuno ha minimamente il dubbio se gli piacete o meno a questa persona credo che questo dubbio deve essere in qualche modo un po' eliminato perché effettivamente è una carta di grande questa è un po' la carta del diavolo di grande attrazione di grande forza di grande passione un po' anche tra di voi gli piacete molto gli piacete molto a questa persona non riesce a liberarsi di voi proprio perché ha questa forte attrazione nei vostri confronti forse ci sono dei limiti in questa carta perché forse non sono carte di sentimenti ma è una carta di grande voglia e di desiderio di vivervi in questo preciso istante vediamo un poco con i miei oracoli solo amicizia abbiamo la carta della menzogna e la carta della pace questo messaggio è proprio chiaro ragazzi quindi forse forse qualcuno di voi è stato illuso da questa persona vuole da parte vostra un'amicizia forse magari un'amicizia con beneficio come si suol dire in inglese with benefit però è quella tipica amicizia dove non si può andare oltre qua c'è una persona che forse vi ha un po' illuso o forse sentite un po' che nell'aria non è molto chiara la sua la sua il suo modo di esprimersi il suo modo di essere ma a breve credo che ci sarà una conversazione molto particolare tra di voi dove proprio vi verrà chiesto guarda secondo me qui bisogna essere amici la pace è la tipica carta dove non si deve andare oltre si dice manteniamo questa calma cerchiamo di non andare magari a degli scontri quando alla fine bisogna mettere le cose in chiaro allora ecco questo è quello che capiterà a breve qualcuno finalmente definirà un po' questa vostra storia cioè il definito sarà importante io definisco la mia storia lui mi dirà io voglio voglio rimanere con te amico magari ecco ci sarà una forte attrazione quindi comunque c'è voglia in qualche modo di viversi questo tipo di rapporto perché in qualche modo sento che da parte mia c'è una forte attrazione nei tuoi confronti non voglio mentirti più non voglio crearti comunque dei castelli di sabbia non voglio farti vivere delle illusioni non voglio farti vivere magari con la speranza di ma in questo caso voglio che tu sappia che io voglio un'amicizia da te forse anche un'amicizia di più vedo dei limiti ma non so perché ho avuto quella sensazione che ci sono dei limiti nella carta dell'attrazione non so se lui è sposato se lui è fidanzato se lui magari comunque effettivamente questa carta è una menzogna rappresenta che lui alla base sta vivendo comunque una menzogna può essere che lui tradisce la propria compagna o la propria moglie e di conseguenza alla base c'è già questa sua menzogna perché sa perfettamente che non mi può dare di più comunque io questa cosa la voglio approfondire la menzogna perché la carta è la menzogna perché la carta è la menzogna perché si vede che c'è qualcosa in lui vi vuole attratto da voi ma più per qualcosa di bello romanticismo secondo me questa persona non è libera di esprimersi nel senso è possibile pure che prova magari anche altri sentimenti per voi ma non riesce a lasciarsi andare non riesce proprio a lasciarsi andare al 100% con i suoi propri sentimenti lo dico soprattutto a chi non è a chi sta frequentando magari una persona o si vede come una persona che è libera perché se è occupato se è una persona quindi che vive una relazione extracognugale c'è il limite della compagna della moglie della famiglia e quindi non può viversi proprio quell'amore romantico quel qualcosa di bello perché purtroppo alla base c'è questa menzogna se invece voi state vivendo un rapporto e vedete che questa persona è strana nei vostri confronti o magari aveva chiesto un momento di pausa o comunque non vi risponde eccetera effettivamente lui vuole una grande vuole un'amicizia per voi prova un'attrazione per voi gli piacerebbe magari vivere dei sentimenti importanti ma c'è qualcosa che lo limita c'è qualcosa che non lo permette di far andare avanti perché è come se in qualche modo lui sa che per voi prova soltanto un sentimento di forte attrazione vorrebbe vivere questi dei momenti di romanticismo ma non sa forse come si fanno o in qualche modo potrebbe tradire quello che lui in realtà prova in questo momento comunque approfondiamo questa stesura anche con i nostri tarocchi abbiamo detto la nostra pietra di ametista vediamo cosa hanno da dirci i nostri tarocchi il risveglio questa è la carta del mondo chissà se rinizierete nuovamente con un rapporto diverso in questo momento vedete il 5 del coppe c'è sempre la paura di quello che è successo in passato in questa carta io dico sempre c'è una sensazione di poca libertà nel poter esprimersi con queste carte sento che è meglio essere amici piuttosto che distruggere questo tipo di rapporto no perché credo che in realtà c'è qualcosa che vi è limitato in questo vostro rapporto qualcuno vi dirà guarda io provo una forte attrazione per te però preferisco esserti amico perché già in passato quello che io ho visto di te non mi è piaciuto moltissimo siete sette di coppe anche c'è una sorta di confusione anche nel parlare nell'esprimersi c'è qualcosa che non mi quadra in questo momento 4 di bastoni ma non vuole perdervi eh questo sta facendo un po' un gioco particolare questa persona eh o farà comunque un gioco molto particolare 4 di denari questa chiusura da parte sua nei propri sentimenti 10 di denari quali chiama cristalli la trasformazione questa è la carta della morte ragazzi vediamo un poco allora come carta nascosta abbiamo l'asso di denari allora allora ho questa sensazione qui c'è una persona che probabilmente da parte vostra vuole soltanto sesso no quindi sta bene con voi è un po' un farfallone di una situazione non è uscito neanche un uomo in queste carte no però è uscita questa grande trasformazione vuole liberarsi forse dalla sua famiglia dalla sua vuole vivere vuole trasgredire in qualche modo e voi siete la persona perfetta siete la persona perfetta perché siete la persona che non ha impegni ok se li avete in qualche modo riesce a regalarvi comunque una stabilità nonostante i limiti che ci possono essere in questo tipo di rapporto vi sono onesto ho questa sensazione purtroppo però a voi a un certo punto vi è stato bene tutto questo adesso però è come se il vostro rapporto vuole qualcosa in più voi volete qualcosa in più da questa persona ovviamente avete superato quella linea che molto spesso è difficile io chiedo di non superare quella linea lì però i sentimenti non possono essere comandati vedo che questi sentimenti sono molto forti da parte vostra c'è voglia di viversi di più c'è voglia di vivere questo romanticismo o vedersi di più o frequentarsi di più o comunque avere un atteggiamento diverso da parte di questa persona ma purtroppo non si ha non è soltanto riferito a un uomo che ha già una storia credo che è un uomo anche che non riesce ad essere proprio se stesso con i propri sentimenti essere libero essere comunque spontaneo nel viversi questo tipo di rapporto ma sa perfettamente che voi lì ci siete vi asseconda non è che vi asseconda tantissimo vuole però imporre un po' la sua idea di rapporto nei vostri confronti vi dice come tu devi capire io sono uno spirito libero io sono uno che comunque che già ne ho passate tanti vi faccio un esempio che comunque non voglio mettermi nuovamente a creare qualcosa quando so che per esempio questa situazione è già andata avanti è quasi distrutta nella sua vita quindi non vuole nuovamente ricostruire qualcosa di serio nei vostri confronti ci sono sentimenti c'è una forte attrazione nei vostri confronti lo vedo non solo dalla carta di attrazione ma l'asso di denaro il quattro di bastoni nel cuore quindi è come se voi fate parte della sua vita in qualche modo già e non riesce ad eliminarvi da questa vita quindi questo è sicuramente qualcosa sì di positivo soprattutto se avete chiesto cosa pensa cosa mi vuole indubbiamente vi vuole pensa di voi che siete una donna perfetta ma attenzione a tutto l'intorno perché è quello anche che fa la storia non è soltanto se mi ama o meno lo deve dimostrare e deve essere anche libero di poter esprimere questi sentimenti da una parte potrebbe esserci un uomo non libero quindi che non riesce perché ha delle limiti proprio logici anche un po' della propria vita e dall'altra potrebbe esserci anche questo uomo che non riesce ad essere libero nell'esprimere i suoi propri sentimenti perché in qualche modo sa già di non voler ricadere negli stessi errori che già forse è caduto con voi o con altre persone perché con voi c'è stato qualcosa di particolare forse ci sono state delle piccole bugie sia vostre che sue dei litigi molto forti accesi che hanno comunque creato qualcosa di particolare e quindi un po' di confusione c'è qualcosa in lui che non lo convince ancora al cento per cento di questa storia questa convinzione potrebbe diventare comunque un grande peso per voi quindi dovete essere anche voi di riuscire a prendere la strada in questo momento per dire sì magari ci sto sì non ci sto un po' così la storia quindi vi va bene questo peso o questa poca convinzione da parte di questa persona credo che a lungo andare potrebbe stancarvi questa situazione quindi attenzione perché questo risveglio proprio che abbiamo visto qua è un po' quello che inconscientemente nella vostra coscienza dentro di voi già sapete intuitivamente già sapete vabbè vediamo come va ma so che prima o poi questa storia mi scoccerà io devo ripartire da zero e la carta del mondo è proprio quella chiusura di una pagina per ripartire da zero con lui sì però saremo solo amici sarà solo pace bello tranquillo voglio andare bene tranquillo c'è questa grande attrazione ma io non posso amarti perché tu non sai darmi quello che io sto cercando è un po' così la storia di queste carte va bene andiamo a vedere adesso un consiglio del maestro Osho cioè vorrei dirvi tanto quando stiamo qui a fare i video di due ore che a volte sono troppi pesanti anche per me per farli allora andiamo a vedere un poco che consiglio vi vuole dare il vostro maestro ui troppe ne sono cadute vuole prendere solo una carta il condizionamento questa è la carta del diavolo potete vedere siete troppo condizionati ancora da questa persona il diavolo o comunque la carta del condizionamento come potete vedere sono milioni di pecore poi siete il leone in mezzo a tante pecore no? è come per dire è proprio e siete legati da queste pecore vedete anche in questa carta si vede come sono aspettate che ecco che è una posizione sono legati un po' come la carta del leone no? cioè voi siete legati da pecore mi viene un po' da pensare ma voi che state perdendo un po' troppo tempo cioè siete intorno a questa e questa e questa mi ritorna la carta e la menzogna forse siete anche voi che state mentendo a voi stessi voi già sapete che questo rapporto sostanzialmente si è bello tanto sesso tanta passione quando ci vediamo c'è la chimica io guardo i suoi occhi sono innamorata persa cioè ragazze siete intorno ad un batuffolo di lana cioè intorno a questa buf nulla forse sostanzialmente viene a pensare voi siete un leone non potete stare troppo lì condizionata aggrappata a qualcosa che non vi può dare quindi attenzione perché questa potrebbe essere la storia tossica la storia che poi alla fine non riuscirà ad andare avanti perché questa persona mi ha ingannato quando poi secondo me questo inganno questa menzogna è un po' vostra nel vedere le cose o comunque sapete le state vedendo le state valutando quindi è inutile mentirsi a se stessi va bene bene cari noi ci sentiremo sicuramente al prossimo spero che questo breve messaggio insomma vi sia stato utile grazie come al solito un abbraccio a tutti ciao